Allora, siamo alla sesta, il centrale è il premio peso, confronto sul Miglio per tre anni, sono in sei concorrenti alla Via. Si va a formare l'allineamento al numero uno, Vertigo Spin, Roberto Vecchione, al due, Viator Caff, Davide Di Stefano, al tre, Vania Del Ronco, Enrico Bellei, quattro, Vansen Font, Antonio Di Nardo, cinque, Vanity Hans, Giampaolo Minucci, sei, Valerio Font, Edoardo Baldi, senza ferie anteriori, Vansen Font, e intanto Viator Caff, che parte con molta calma. Lo stacco della macchina, ed è veloce, lungo la corda, Vertigo Spin, che si mantiene in vantaggio, Vania Del Ronco va a cercare lo steccato all'esterno, Vanity Hans, poi Vansen e Valerio. Vertigo al comando all'imbocco e la piegata su Vania Del Ronco, poi Vanity Hans, che si sistema in terza posizione, 200 iniziali in quattordice e due, Vertigo, Vania, poi Vanity, Vansen, che sposta Valerio a chiudere il drappello. Terminata la prima curva, ingresso del passaggio di fronte alle tribune, con Vertigo al comando, risale all'esterno, Vansen Font, sopravanza Vanity, in calza Vania, questi sempre proteso nella scia del battistrada, Vertigo Spin, quindi Valerio Fonte, infine Viator Caff. Gradualmente Vanity va a ridosso di Vertigo, i 600 vanno via in 44 e mezzo. In bocca è la penultima curva, con Vertigo alla corda, Vanity all'esterno, poi Vania Del Ronco all'argo Valerio, ancora Vanity Hans chiude il drappello, Viator Caff, metà gara in un minuto e due decimi, Vertigo in controllo, Vansen si impegna al suo esterno, Vania appostato alla corda, all'argo Valerio, poi Vanity con all'esterno Viator Caff, aumenta la cadenza, ora Vertigo sotto l'attacco di Vansen Font, c'è un 14,3 per chiudere il chilometro, un 1,14 e mezzo verso l'imbocco della curva conclusiva, Vertigo alla corda, Vansen in pressing, poi Vania all'argo Valerio che sposta in terza a metà della piegata conclusiva, quantomeno si affaccia con Vertigo al comando, Vansen a ridosso, Valerio in terza, Vania murato alla corda, al termine della piegata finale, Vertigo spin cerca di svincolarsi da Vansen Font, Vania in tasca, all'argo Valerio Font, 200 al palo, Vertigo al comando, Vansen che prova a riorganizzarsi e tenta l'attacco, Vertigo allo steccato, Vansen che attacca, Vertigo cerca la difesa, Vansen insiste all'esterno, Vansen Font che vince ancora davanti a Vertigo spin, poi Vania del Ronco che coglie il terzo sull'errore di Valerio Font, 1,57 sul mio cronometro, la media intorno all'1,13, ancora una volta gira tutta strada di fuori, Vansen Font e vince una gran corsa contro il generosissimo Vertigo spin, ancora buon secondo, a precedere l'appostato, Vania del Ronco, Vansen Font, Antonio Dinardo, Gennaro Casillo e i colori del signor Michele Notaro, la quota 2,14. Grazie a tutti.